Nel lussuoso complesso alberghiero di Almasa, il Diamante, gestito dal Ministero della Difesa Egiziano, Papa Francesco ha chiamato l'Egitto a ritrovare il suo ruolo insostituibile nel Medio Oriente per fermare la violenza cieca e disumana, violenza di guerra e di terrorismo causata dal commercio di armi e dall'estremismo religioso, ma anche da gravi problemi sociali e dal desiderio del potere. Prendendo la parola dopo il Presidente Al-Sisi, il Papa ha ricordato le famiglie, alcune delle quali presenti in sala, che piangono i figli vittimi del terrorismo e i cristiani vittime di violenze che hanno dovuto lasciare il sine ai settentrionale. Per costruire la civiltà è necessario ripudiare ogni ideologia del male, ogni interpretazione estremista che pretende di annullare l'altro, oltraggiando il sacro nome di Dio. Per questo Francesco ha riconosciuto gli sforzi del Presidente Egiziano nella lotta all'estremismo islamico e ha chiesto di smascherare i venditori di illusioni sull'aldilà, che predicano l'odio per rubare i semplici da loro vita presente e il loro diritto di vivere con dignità e smontare le idee omicide e le ideologie estremiste. L'Egitto, che al tempo di Giuseppe salvò gli altri popoli dalla carestia, è chiamato oggi a salvare il Medio Oriente dalla carestia dell'amore e della fraternità. La culla delle tre grandi religioni deve risvegliarsi dalla lunga notte e dimostrare che si può credere e vivere in armonia con gli altri, dalla Palestina alla Libia, dalla Siria al Sud Sudan. Grazie. 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 Grazie.